Sì, sto amore, la zia Alice, eh? Sui cavalloni, guarda che puliscono il cavallone. Anche noi la prossima volta che andiamo spaziolemo il cavallo, spaziolemo sia il cavallo che la Gabri, che ha bisogno la Gabri. Francesca Ferragni e Richi Nicoletti hanno recentemente coinvolto il loro figlio, Edoardo, in una piacevole esperienza televisiva. Il piccolo ha avuto l'opportunità di osservare la zia Alice, mentre si dedicava alla sua passione per i cavalli. Spazzolando, concura uno splendido destriero. Questa affinità familiare per l'equitazione sembra aver suscitato grande interesse nel giovane Edoardo. Tuttavia, il giorno successivo alla visione televisiva, la famiglia di Francesca si è avviata verso una destinazione sconosciuta per trascorrere un weekend insieme. Le speculazioni su quale avventura gli attenda sono molte, ma il destino finale rimane un mistero. Chiaramente l'amore per i cavalli è solo uno dei tanti legami che uniscono questa famiglia affiatata, pronta a vivere nuove avventure insieme, anche se il loro prossimo traguardo rimane avvolto nel mistero.